Il ditto di due settimane è la riapertura degli impianti dello Stelvio dal 29 maggio, data prevista per l'inizio della stagione estiva dello sci sul ghiacciaio tra Lombardia e Trentino, al 12 giugno. Ad annunciarlo la SIFAS che precisa come la decisione sia indipendente dalla volontà della società. Causa sospensione delle attività ricognitive, ci vediamo costretti a posticipare la data di apertura, si legge nello scarno comunicato. A spiegare all'arcano il direttore Umberto Capitani, che però ha davvero poca voglia di parlare, per rispetto delle vittime di Mottarone si lascia sfuggire a mezza voce, perché il rinvio dalla ripartenza è in qualche modo collegato alla tragedia che si è consumata in Piemonte, la funivia precipitata a pochi metri dall'arrivo, 14 vittime, tra cui due bambini. Nei mesi scorsi sono stati effettuati lavori importanti alla funivia dello Stelvio, dice il direttore SIFAS Capitani, e in questa settimana sarebbero dovuti iniziare collaudi. Entrambe le funivie, quella che dal passo arriva al trincerone e l'altra che da 3.000 metri sale fino al Livrio a 3.174 metri, sono state smontate, revisionate e rimontate in primavera. Quello che mancava era appunto il collaudo che viene effettuato da tecnici esterni del Ministero. Probabilmente a causa della sciagura del Mottarone, gli addetti controlli hanno sospeso per il momento tale attività, che richiede 6-7 giorni di tempo, rinviandola per quanto riguarda noi alla settimana tra il 7 e l'11 giugno. Si tratta di controlli di rutini che vengono eseguiti per legge ogni anno all'avvio della stagione, proprio perché le funivie sono state ferme per mesi, per lo Stelvio si fanno a primavera inoltrata. Arrivano ingegneri specializzati e sottopongono la funivie ad una serie di prove per accertare la sicurezza dell'impianto. Noi siamo pronti, ma davanti alla tragedia di Mottarone facciamo un passo indietro e attendiamo con pazienza, conclude i capitani. Intanto è confermata l'apertura degli impianti sabato in Val di Lei, sopra Madesimo, salvo diverse indicazioni del Ministero, precisa il responsabile della schiaria Val Chiavenna, Marco Garbin, che spiega anche come si sia deciso di posticipare la prevendita online a questo giovedì. Qui il collaudo è stato ultimato in autunno in previsione della prevista riapertura per l'inverno che poi non c'è mai stata.